Pronto? Ciao! Senti, io il 3 ottobre inizio, sì sì, su Rete8, inizio un nuovo programma Consigli per gli acquisti show. Senti, ti chiamo perché sarai felicissima di averti ospiti. Ah, ah, ok. Non hai un disco in promozione che viene a fare giustamente? Certo, cioè. Vabbè, ci sentiamo quando esci. Ti richiamo. Va bene. Ciao, 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 ciao. Pronto? Ciao, ciao. Sì, senti, io il 3 ottobre, tutti martedì alle 21, sarò sul Rete8 con un nuovo programma Il Talk che non c'era. Consigli per gli acquisti show. Vuoi venire ospiti? No, non hai un film in promozione. Va bene, va bene. Allora, chiamami quando esce, sta per uscire. Va bene, recuperiamo. Dai, ciao, 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 ciao. Pronto? Ciao, ciao. Senti, io ti volevo invitare al mio nuovo programma. Consigli per gli acquisti show, tutti i martedì sul Rete8. Il tuo libro è appena uscito? Fantastico, lo vieni a promuovere lì. Eh sì, e consigli per gli acquisti show. Allora ti aspetto alle 21, martedì 3 ottobre. Grazie, ciao, ciao. E viva. Grazie.